Ho soddisfatto di presentare stamattina alla società questa iniziativa che dà finalmente vita, direi un'anima, alla casetta di vetro, ma soprattutto dà l'opportunità a tanti diversamente abili di trovare dignità e una opportunità lavorativa. Qui dentro nascerà nessuno, un talent a sé, aperto alla collaborazione dei diversamente abili e noi affideremo ad una cooperativa costituita da questi ragazzi talentuosi e immagino dai genitori, affideremo questa struttura affinché possano attivarsi per realizzare un'azione che possa dare loro un coinvolgimento sociale lavorativo. Sarà un luogo aperto anche all'organizzazione di iniziative culturali, mostre, participazioni libri e ovviamente altre attività che invito le associazioni che spesso hanno dato disponibilità a presentarci. Sarà un luogo nel quale organizzare anche laboratori per formare e per migliorare i talenti che tutti possono esprimere. Credo che la città non solo abbia raggiunto un livello di maturità stabile da poter ottenere questa opportunità, ma lo debba a tutti i ragazzi e credo che sia una bella giornata per la comunità del mondo. Grazie a tutti.